Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi, no, state tranquilli, non mi hanno scammata, ma parleremo i modi, non tutti, comunque oggi ne tratteremo 5 modi in cui le persone cercano di scammare gli altri. Questo video vuole essere un modo per mettervi in guardia dalle possibili truffe che le persone tentano di fare tutti i giorni. Ragazzi, io tutti i giorni che entro, credetemi, assisto a discussioni e a cose assurde. Ora, io capisco, io sono la prima che spera che nelle persone ci sia sempre il buono, che dà fiducia, però ragazzi qui sul gioco, purtroppo, la maggior parte delle persone vuole truffarvi, dovete stare attenti. Quindi insieme andremo a vedere quelli che io conosco, anzi, se voi ne sapete altri, scriveteli sotto, perché se magari arriviamo a un altro tot di numero di altri generi di truffe che fanno, potrei farci un secondo video. E oggi andremo a vederne 5, io me li sono scritti qua, infatti se guarderò qui ogni tanto è perché li leggo, entriamo nel gioco e iniziamo con il primo. Ragazzi, secondo voi che cosa è successo al mio avatar? Ma mi spiegate che cosa succede? Ogni volta che entro c'è un problema differente. Ok, ho sistemato l'avatar, scusate non riuscivo a vederlo in quel modo. Uno dei tanti che io vedo è semplicemente che le persone dicono di vendere i pet. Vendo un pappagallo per 2000 bucks, no? Quei sono i soldini verdi del gioco. Quindi cosa fanno? Vi portano a casa loro e vi dicono io ho questi pet e ve li fanno vedere. Io ho una renna artica che vendo per 5000 bucks, io ho un alicorno e lo vendo per 2000 bucks. Allora, dopo che vi hanno fatto vedere tutti questi pet, il camaleonte lo vendo per 3000, voi tutti entusiasti andate là e dite ok va bene io voglio il camaleonte per 3000 bucks. Quindi cosa fanno? Iniziano sia con gli stand delle limonate, con gli stand degli hot dog, con la cassa. Vi fanno arrivare all'importo che loro vogliono, vedete? Vabbè, qua da me mi sono pagata da sola insomma, però vi fanno dare tutti quanti i bucks e appena arrivate, dopo tanto tempo, perché comunque c'è sempre anche un limite dei soldini, però quando arrivano all'importo loro, lo sapete cosa fanno? Questo, chiudono e se ne vanno. Dovete stare attenti e ne vedo tanti, ne vedo tanti che accettano. Venite, venite a casa mia, vi faccio vedere i pet e poi soprattutto un'altra cosa che vi devi fare stare attenti perché vogliono una persona per volta. Non è vero, nessuno vi regala le cose, cioè oddio, oddio, non riesco più a rientrare ragazzi. Quindi dovete stare attenti, quando vedete che qualcuno vi dice che vende i pet, non è vero, non è possibile, ma poi a quest'ora quelli di Adopt Me avrebbero messo questa funzione in modo più sicuro, l'avrebbero fatta in modo più sicuro. Voi non dovete comprare niente, anzi addirittura ci sono persone che li vendono anche per i soldi veri ragazzi. State attenti, non dovete mai accettare, mai, mai, perché vi fregano. Ora, passiamo al secondo. Allora, ci sono persone che scambiano in due trade, lo chiamano anche trust trade. Trust significa fiducia, facciamo trust trade. Cosa significa? Lui vi dice, io vi scambio il camaleonte per un blue dog e magari voi lo volete fare e vi dice, facciamo trust trade. Cosa vogliono? Vogliono che voi gli date il camaleonte in cambio di niente e poi dopo loro vi manderanno il blue dog. Ragazzi, escono dal gioco. Ora non esco di nuovo perché sennò non mi fa più rientrare il gioco, ma non vi danno in cambio niente, non dovete credergli. Ora, io, ok, ci può essere quel 2% sul gioco che sono veramente e soprattutto vi dicono che lo fanno per dei video di YouTube, che stanno facendo un esperimento sociale, che vogliono vedere le persone se si fidano. Ragazzi, se dovete fare un'azione buona, se dovete fare delle azioni carine per il prossimo, fatele di persona, fatele il posto a sedere a una persona che ne ha bisogno sull'autobus, aiutate una signora a portare le buste della spesa fino alla macchina, fate queste cose belle, dal vivo. Non fatevi fregare da queste persone che dicono di fare queste cose, lasciateli perdere perché vi fregano qui sul gioco. Se dovete fare delle cose belle, fatele nella vita reale. Ok, questo è un altro. Adesso, scusate se mi vedete anche che mi giro tipo il robot, ma ho il torcicollo. Il terzo è il gioco delle porte, ovvero le persone vi portano, vi portano il gioco delle porte. Quindi il gioco delle porte, io ora non ho replicato per farvi vedere, fate finta che queste due porte sono appunto con una porta chiusa e vi dicono io mi metterò dietro una di queste due porte con un pet, in questo caso il camaleonte, oggi il camaleonte sarà il nostro assistente. Mi metterò dietro una di queste porte. Se voi indovinate la porta, io vi regalo il camaleonte. Però per partecipare al gioco mi dovete lasciare 50 soldini nella cassa. Dopo che mi avete lasciato 50 soldini nella cassa, io vi farò giocare. Quindi le persone dicono ok, va bene. Io mi pago 50 soldini e appena pago i soldini, la persona prende e si disconnette e si è guadagnata 50 soldini così in un secondo. Alla fine, diciamo che la fine di tutte queste truffe è uguale, che le persone si disconnettono e voi avete perso tutto quello che gli avete dato. L'ultima l'ho chiamata la truffa dei complici o dei compari. Quindi cosa fanno? Vanno in piazza. Adesso andiamo in piazza, ve lo ricreo. Che questa veramente, se la sono studiata, cioè io non ho parole, ci mettono del tempo, investono delle idee. Sono veramente ingegnosi. Se non fosse che il fine è veramente brutto, direi che sono veramente intelligenti. Allora, cosa fanno? Vi farò comparire qui sotto nella schermata per farvi capire meglio. Vi farò un esempio. Allora, ci sarà Tizio X che dirà scambio una giraffa per un cane neon. Io adesso sto facendo questo esempio perché sia più chiaro possibile, ma lo fanno con tutti gli animali. Ora, magari voi non ce l'avete un cane neon e quindi pensate, oh mio Dio, avessi avuto un cane neon, a quest'ora avevo una giraffa perché ero in super win, cioè quasi sembra finta questa richiesta. È lì che magicamente dall'altra parte della piazza comparirà Tizio Y e lui scriverà, guardate il caso, scambio un cane neon per una tartaruga, ok? Magari voi avete una tartaruga che la tartaruga vale molto meno comunque della giraffa e quindi siete disposti per ottenere la giraffa a dare via la tartaruga per un cane neon che poi darete a Tizio X, capito? Quindi andate da Tizio Y, effettivamente andate a dargli la tartaruga per il cane neon perché in questo momento è una grandissima perdita, però poi voi pensate, io glielo vado a dare a quello che mi dà la giraffa e quindi è qui che scatta la fregatura perché questi Tizio X e Tizio Y sono messi d'accordo per fregarvi la tartaruga, vi danno sì un cane neon, ma quanto ci vuole a fare un cane neon? E dopo che hanno fatto questo scambio voi andate a cercare Tizio X ma nel frattempo Tizio Y ha già detto, oi ho ottenuto la tartaruga, ce ne possiamo andare e si disconnettono. Quindi ragazzi state attenti e non sapete quanti ne vedo di queste truffe, dovete stare attenti, nessuno regala niente. Ok, detto questo, questo era l'ultimo metodo con cui ho visto io qui nel gioco effettivamente che provano a scammare, se voi ne conoscete altri scriveteli sotto perché così magari ci possiamo fare un altro video e a farli vedere a più persone possibili, anzi se voi conoscete qualche vostro amico che gli è capitato o che magari volete tutelarlo, fateli vedere questo video. Detto questo, se vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video che usciranno e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie!